L'occupazione a Porcari tiene e paradossalmente cresce di qualche unità proprio nel momento più delicato della lunga fase di crisi a livello mondiale. È un passo della lunga intervista con il sindaco Alberto Baccini che andrà in onda integralmente martedì sera alle 21. Il dato emerge da un'indagine che il Comune ha raccolto dalle rilevazioni compiute dalla Camera di Commercio ogni anno che dimostra come il numero degli occupati dal 2007, anno antecrisi, al 31 dicembre 2012, sia rimasto più o meno lo stesso. Il segnale dunque è che il distretto industriale che insiste sul piccolo comune della Piana è riuscito a mantenere inalterati i livelli occupazionali che invece hanno mostrato cali, spesso anche vistosi. Nel 2007, quindi nel periodo esattamente pre-crisi, a Porcari c'erano circa 5.000 posti di lavoro complessivamente. Lei sa che Porcari è un paese dove si produce quasi un quinto della ricchezza della provincia di Lucca nel nostro territorio, pur essendo come territorio fisico lo 0,90 come territorio fisico della provincia di Lucca. Quindi lei pensi questo rapporto incredibile quasi. Ebbene, al 31 dicembre 2012, in piena crisi economica mondiale, a Porcari i posti di lavoro sono 5.100. Sono sempre gli stessi, non c'è stato incremento se non inezie. Quindi vuol dire che il nostro sistema produttivo è un sistema che ha tenuto fortemente, nonostante i 5 anni peggiori nella storia della Repubblica probabilmente dal punto di vista economico e finanziario. Ora naturalmente questo non è certamente merito del Comune, ci mancherebbe altro. Però vuol dire che le aziende, vuol dire che il mondo produttivo, il mondo imprenditoriale ha sempre trovato e continua a trovare e troverà sempre nel nostro Comune un humus favorevole anche dal punto di vista amministrativo, anche dal punto di vista del rilascio di autorizzazioni, nella velocità delle pratiche. Comunque in un'attenzione specifica che da quando è stato istituito anche l'assessorato al lavoro si è ulteriormente incrementata in questo periodo.